Pierezzo Ghezzi, buongiorno, torniamo a parlare di amministrative. Il TAR ha emesso l'ordinanza istruttoria e ha richiesto alla Prefettura di Pavia le tabelle e i verbali di scrutinio dei due seggi da lei contestati. Cosa succede adesso? Succede che il 5 di novembre il TAR ha ricevuto i documenti in originale, perché di questo ha bisogno, dalla Prefettura li esamina, confronta le tabelle elettorali con i verbali sottoscritti dai Presidenti e verifica se ci sono le incoerenze che noi abbiamo denunciato esserci. Contemporaneamente lascia la parola ai legali miei e ai legali della controparte per la discussione in aula. Non sappiamo ancora che cosa il TAR deciderà, se si andrà a riconteggio oppure no. Infatti quello che a molti cittadini non è chiaro è che il TAR non ha deciso il riconteggio dei voti, ma l'analisi dei documenti e la discussione in aula. Ci sono delle possibilità concrete che il TAR decida di riconteggiare i voti oppure no? Il TAR ha dovuto fare questo passo, è inevitabile, perché deve esaminare gli elementi probanti, dopodiché può decidere di richiedere alla Prefettura di riconteggiare tutte le schede del seggio, se riscontra quelle anomalie che abbiamo detto. Il nostro punto di vista, suffragato anche dalla verbale del magistrato che ha proclamato il dottor Barbieri e il dottor Toriani come i due vincitori del primo turno, confermerà quelle che sono le nostre ipotesi. E cioè che i numeri scritti sui due seggi che noi vogliamo riconteggiare sono numeri che vanno validati. E quindi io confido ovviamente in un esito positivo. Per me l'esito positivo è il riconteggio, dopodiché si vedrà in che misura questi numeri sono a me favorevoli oppure rimangono favorevoli al dottor Toriani. Ecco, l'ha appena citato, in questo momento come sono i suoi rapporti con l'altro ricorrente, nonché l'altra grande fetta di opposizione in consiglio vero a Aurelio Toriani? I rapporti sono buoni, nel senso che ognuno nel suo ambito e nella sua dimensione politica fa il proprio mestiere di opposizione. Ci sono interpellanze che sottoscriviamo insieme perché hanno un senso sottoscriverle comunemente, così come si sottoscrivono con il Movimento 5 Stelle. Ci sono interpellanze che invece riteniamo, e il dottor Toriani ritiene, di promuovere direttamente. Cambiamo argomento, parliamo dell'incendio Piber Plus. A seguito della comunicazione di Aslo e Pavia, che in seguito all'incendio aveva disposto nell'ambito comunale alcune precauzioni, compreso il lavaggio di frutta ed ortaggi, i gruppi consigliari PD e lista Civica Ghezzi avevano chiesto attraverso il consigliere Roberto Gallotti un incontro con il primo cittadino Carlo Barbieri. Questo incontro è avvenuto? Sì, il sindaco ci ha concesso l'incontro il giorno dopo, quindi è stato celere, gliene diamo atto. Si è confrontato con il consigliere Gallotti sugli elementi che in quel momento avevamo a disposizione, che erano sostanzialmente i primi dati dell'ARPA, ma nessuno aveva ancora i dati definitivi a disposizione. Quando i dati sono arrivati siamo stati confortati dalla loro risultanza e che quindi l'impatto sull'aria era stato assolutamente inconsistente. Abbiamo chiesto al sindaco, lo chiederemo, ma penso che anche lui sia d'accordo su questa ipotesi, di continuare a monitorare invece i residui di combustione che sono precipitati sui terreni circostanti. Ricordo che l'Asla aveva emanato un'ordinanza dove chiedeva di lavare la frutta, insomma la verdura. Sì, è notizia proprio di ieri pomeriggio che è stata revocata l'ordinanza dove si ordinava che il consumo dei prodotti ortofrutticoli avvenisse solo in seguito a un lavaggio molto molto accurato. Quindi da una parte sono contento perché la produzione non si era interrotta, la Piberblast che è un gruppo importante, dall'altra parte questo incidente, seppur sgradevole, se questi dati sono confermati, le analisi che hanno fatto sono negative, pone termine alle nostre preoccupazioni per ora, insomma. Anche se di fatto la qualità dell'aria in Voghera, e lo sappiamo tutti da tempo, non è monitorata costantemente perché le centraline dell'ARPA non funzionano, ne funziona una sola e non è sufficiente. È stato segnalato più volte, a quanto mi risulta, io non ho avuto una risposta ufficiale. Già nella scorsa legislatura mi pare di ricordare che erano intervenuti sia i consiglieri del PD che i consiglieri di opposizione e l'ARPA avesse risposto che non aveva sufficientemente risorse economiche per poter far funzionare le centraline, insomma una risposta inaccettabile, se era quella. Grazie.